Siamo davanti al centro vaccinale di Corbaro. Il sindaco Pietro Pentangelo ha messo a disposizione il palazzo di vetro e insieme all'ASL hanno creato un centro vaccinale dove stanno venendo insegnanti dell'istituto comprensivo di San Degidio del Montalbino e Corbaro. Si sono inserite in questo progetto anche le scuole di Pagania che verranno dalla settimana prossima per vaccinare insegnanti e collaboratori scolastici. Organizzare in tempi celeri senza spese esagerate, qui è bastato niente, per creare l'ambiente idoneo per le vaccinazioni. Finché ci sono queste persone sicuramente ci salveremo. E poi un'altra cosa, qui non ci sono assembramenti. Il progetto che inizialmente era nato unicamente per gli istituti di Corbaro e San Degidio, ovviamente alla luce del lavoro che abbiamo fatto, accoglierà un piano vaccinale che ci impegnerà per tutta il resto di questa settimana e per tutta la settimana prossima. Perché saranno aggregati a questa attività di vaccinazione anche tutti i plessi scolastici di qualsiasi ordine e grado della città di Pagania. Puoi immaginare sicuramente la soddisfazione di quello che era nato come un piccolo progetto pilota e che invece sta servendo a dare sicurezza. E mi posso permettere di dire anche una prima risposta importante all'istituzione scolastica che è quella che ci preme forse più di ogni altro in questo momento. E almeno ad assicurare agli operatori della scuola un intervento deciso in materia di vaccinazione. Sulla base delle indicazioni che l'ASA ci ha dato abbiamo immediatamente adeguato, ma non nel giro di settimane, ma in 48 ore, i locali così come erano stati richiesti. Dobbiamo ringraziare il sindaco che ci ha messo a disposizione questa bella sede, che in effetti ha accolto anche la nostra offerta di dare un nostro contributo in questa emergenza sanitaria. Nel momento hanno aderito numerosi docenti, se tutte le risorse ci sono, se ci sta il vaccino a disposizione. Per adesso c'è? Per adesso c'è, non c'è nessuna preoccupazione. L'AstraZeneca sono due dosi. Una dose si fa a tempo zero e poi dopo 80 giorni si prevede la seconda dose. L'idea è stata concertata insieme ovviamente al Dipartimento di Prevenzione, insieme a entrambi le amministrazioni che hanno offerto un supporto organizzativo straordinario. Registro l'adesione della stragrande maggioranza di tutto il personale scolastico, quindi a partire dai docenti, personale ATA, personale di segreteria, collaboratori scolastici. Mi hanno regalato questo distintivo. Mi sono vaccinato. Non lo posso mettere ancora perché io non sono ancora vaccinato. e tanti colleghi giornalisti come me non sono vaccinati. Stiamo aspettando che qualcuno decida anche per noi, per vaccinarci o almeno farci l'invito da qui a qualche tempo, che ci sarete vaccinati in questo periodo.